Ciao a tutti. Benvenuti al nostro canale. Oggi vi portiamo un aggiornamento sulla storia dell'ex partecipante di Temptation Island, Gabriela Chieffo, insieme al suo compagno Giuseppe Ferrara. Questa coppia è tornata sotto i riflettori, e stavolta per un motivo un po' diverso. Recentemente, Gabriela Chieffo è volata in Turchia per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. La notizia è stata condivisa sui social media attraverso le storie della stessa Gabriela. Dopo l'esperienza a Temptation Island, Gabriela e Giuseppe sono diventati molto popolari sui social. E hanno deciso di condividere con i loro fan questo nuovo passo nella loro vita. Hanno raccontato che si sono recati a Istanbul per l'intervento e hanno spiegato che Gabriela si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva al seno. In un video, Giuseppe ha condiviso la sua preoccupazione e la sua ansia riguardo all'intervento. Ma ha anche espresso la sua fiducia nella relazione con Gabriela. Ha detto. Sono ancora in attesa e in ansia a mille. Però andrà tutto bene. Inoltre, quando gli è stato chiesto se aveva paura che Gabriela potesse lasciarlo dopo l'intervento, ha risposto con determinazione. Se temo che Gabriela mi lasci una volta rifatta? Non penso proprio. Posso dormire non su cento ma su mille cuscini. Gabriela è la donna della mia vita e sicuramente non mi lascerà. Ora, tutti quanti aspettiamo di vedere il risultato dell'intervento e ascoltare le parole dirette di Gabriela riguardo a questa scelta. Grazie per averci seguito. Se vi interessa rimanere aggiornati sulle storie delle celebrità e le ultime notizie, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e a seguirci su Facebook. Ci vediamo nel prossimo video.